Si è svolto al Monastero di Camaldoli il diciannovesimo pellegrinaggio regionale dei gruppi donatori di sangue Fratres della Toscana. Un momento di riflessione e condivisione ma anche un momento di ringraziamento a chi ha compiuto 150 donazioni di sangue e plasma. Vedere la disponibilità di tante persone, di tanta gente, di gente semplice poi come ha potuto vedere, che si dedica, che ritiene che questo sia un gesto doveroso, religioso addirittura, da compiere, è emozionante. È grande la mia soddisfazione accogliere una popolazione che sento vicina anche come radici, ispirazioni, che rappresenta la cosa più bella che c'è, donare. Presente anche il Vescovo di Arezzo, Monsignor Andrea Migliavacca. Credo riusciamo a raggiungere alcuni obiettivi di solidarietà e di vicinanza per la partecipazione e la generosità di tanta gente che nella semplicità della vita dona qualcosa. Ecco, credo che i donatori di sangue, di plasma, rientrino davvero in questo patrimonio che è una ricchezza. In tante di queste piccole realtà locali la presenza del gruppo Fratres contribuisce a mantenere e costruire quello spirito di, non voglio dire di solidarietà, ma insomma quello spirito di appartenenza alla comunità che oggi sentiamo dire che si va disperdendo. Mentre invece in questi centri Fratres contribuisce a mantenerlo. Qual è la situazione a livello proprio della Toscana per la donazione del sangue? Siamo messi mediamente, leggermente meglio rispetto alle medie nazionali.